Qual è il valore aggiunto di TikTok per le PMI? Si può riassumere in due parole, autenticità e creatività. TikTok aiuta i brand a raccontare la loro storia e questo è il punto importante. Bisogna essere se stessi con i contenuti di TikTok e soprattutto bisogna raccontare la storia dell'azienda, la passione che avete del vostro prodotto ed è così che si creerà un contenuto coinvolgente.